domanda difficile beh allora ci mancherebbe allora sicuramente che abbiamo cambiato quindi adesso la prima partita è andata bene dobbiamo lavorare sicuramente per mantenere un livello buono di prestazioni perché comunque il cambiamento c'è stato e quindi dobbiamo adeguarci a questo cambiamento però penso che lavorando in settimana come sempre si possa arrivare a la cosiddetta quadratura del cerchio però penso che diciamo grossi cambiamenti ecco non ci sono stati ma guarda alla fine è stato un segnale sicuramente per la squadra poi è ovvio che di conseguenza anche per l'ambiente però ci siamo guardati un attimo in faccia venivamo da tante partite perse purtroppo negli ultimi minuti a Bologna appunto dopo tre supplementari è stato più che altro un momento di riflessione di spronamento verso risultati migliori visto che comunque siamo in una fase importante eravamo in un momento difficile e quindi dovevamo uscire tutti insieme e quello era solamente un modo per rimanere uniti per continuare a lavorare e uscire da quel momento allora sicuramente è un ruolo importante che sto cercando di rivestire al meglio anche se è la prima volta che mi capita in una squadra di serie A ho cercato di dare il massimo fin da subito e indipendentemente dal mio ruolo penso siano i minuti o le statistiche credo che sia stato un miglioramento rispetto all'anno scorso e questo non mi può che far piacere perché è una crescita personale e riguardo a più responsabilità adesso più o meno rimangono le stesse e comunque bisogna lavorare al massimo per fare il meglio della squadra e già qualche anno fa avevo fatto delle partite in quintetto dal numero 5 quindi adesso sì sicuramente una bella è una bella sfida per me però non è che non ci la notte anzi è una cosa che mi invita a dare di più a fare meglio sicuramente c'è c'è sempre da migliorare quindi qualsiasi aspetto del gioco può essere migliorato come hai detto te dal palleggio al tiro ma anche le sole scelte in attacco in difesa insomma ci sono tante cose su cui si possono migliorare e sto cercando di lavorarci durante l'anno e sarebbe sicuramente un onore essere chiamato una nazionale soprattutto quest'anno che ci sono insomma le olimpiadi e comunque il preolimpico sarebbe veramente bellissimo è chiaro che ci sono tantissimi giocatori forti fortunatamente per la nazionale e quindi niente spero di poter riuscire a mettermi in luce o comunque continuo a lavorare indipendentemente da questo no vabbè allora sicuramente la prepariamo come sempre lavorando in settimana su tutti gli aspetti possibili che ci possono capitare in partita e la squadra insomma trento è una squadra molto molto forte quadrata sta giocando molto bene sta confermando quello che di buono ha fatto l'anno scorso e sicuramente sarà una partita molto impegnativa però la viviamo come tutte le partite ci prepariamo al meglio possibile e ce la giochiamo allora sicuramente la tensione fa parte del gioco e ci sarà sempre specialmente nei minuti finali perché comunque si decide nella partita punto a punto quindi la tensione normale che ci sia è chiaro che se riusciamo a essere più lucidi a fare scelte più corrette in attacco in difesa che sia abbiamo più possibilità di vincere la partita di portare a casa due punti sicuramente abbiamo vissuto un momento dopo Torino dove i risultati ci sono sfuggiti sempre per pochi punti o comunque nei finali di partita quindi è chiaro che si sia creata magari un po di tensione in quei momenti della partita però lavorando comunque insieme di squadra e cercando di fare il meglio possibile di giocare nella maniera migliore possibile o insomma si cerca comunque di uscirne tutti insieme quindi la vittoria di Sassari negli ultimi minuti ci ha dato sicuramente fiducia e siamo usciti da un momento un po' così un po' brutto altalenante ma senti come ha detto Benetech è un po' una leggenda perché comunque nessuno gioca per perdere e quando si perde sicuramente girano le scatole anche perché tanti risultati negativi in fila non portano mai niente di buono sia per la squadra che per il giocatore singolo perché comunque tante partite brutte poi possono portare a delle implicazioni poi sul contratto futuro per esempio visto che mi parli di americani però ti dico questo gruppo sicuramente in questo momento in cui abbiamo fatto queste sconfitte di fila si è stretto ancora di più e l'abbiamo dimostrato con Sassari dove siamo usciti da questo diciamo questo momento no sicuramente ti posso assicurare che il gruppo è molto unito sono tutti concentrati verso gli obiettivi della squadra sono tutti concentrati verso il lavoro che dobbiamo fare verso i miglioramenti da fare quindi è un gruppo che sente il risultato indipendentemente che sia positivo o negativo lo sente quindi se c'è un momento negativo cerca di dare il massimo per uscirne se c'è un momento positivo cerca di dare il massimo per continuare questo momento quindi è un gruppo molto unito e che lavora bene insieme sicuramente gli devo tanto perché in cinque anni voglio dire sono passato da B1 a Ruvo fino a arrivare a giocare l'Euro Cup qui a Brindisi sono stati cinque anni intensi sono stati cinque anni dove sono riuscito a migliorare tanto mi ha dato tanta fiducia e quindi di questo posso solo ringraziarlo per quanto riguarda il fatto dove sarei adesso se non avessi trovato lui una domanda non saprei cosa dirti probabilmente magari cinque anni fa sarei arrivato qua avrei fatto un onesto campionato e poi sarei tornato a B1 probabilmente non ti saprei dire adesso che siamo usciti da un momento brutto e lavoriamo volta per volta partita per partita e poi quando saremo molto più avanti potremo fare un bilancio e vedere cosa possiamo fare per adesso un passo alla volta adesso abbiamo Trento pensiamo a Trento no un buonissimo una buonissima impressione anche perché è riuscito a inserirsi velocissimo nel gruppo è un bravissimo ragazzo è un ottimo elemento perché lavora non si lamenta mai ci mette il cuore come ha dimostrato in queste partite che ha giocato con noi sia Bologna che Sassari sapevamo che era un buon elemento perché già l'anno scorso Avellino l'anno prima a Pesaro insomma ha fatto dei buonissimi campionati però un'ottima impressione perché sta veramente facendo bene si è inserito benissimo nel gruppo ma sì era per compattarci in questo momento difficoltà insomma dopo aver ragguantato una partita anche sotto di 15 punti averla portata supplementare secondo terzo supplementare magari poteva essere motivo di non depressione per modo di dire e quindi ha cercato giustamente di fare ci sono stati dei momenti nel giro in andata in cui abbiamo avuto dei deficit pesanti e questo ok abbiamo avuto dei problemi in qualche partita però questo si è verificato spesso in Euro Cup in campionato siamo sempre riusciti ad affrontare le partite al meglio adesso in cui ci sono state tante partite perse come sempre negli ultimi minuti questo sì può essere, si può dire fatalità, si può dire caso però ovviamente va imputato anche a noi perché comunque negli ultimi minuti se sbagli delle scelte è chiaro che poi la partita ne risente, il risultato ne risente quindi in questo momento purtroppo penso sia una posizione giusta